Il Pontevomano per continuare la corsa salvezza, l'Avezzano per provare la fuga definitiva verso la Serie D. Sono questi gli obiettivi delle due formazioni su un campo ai limiti della praticabilità. Dopo 23 secondi il Pontevomano protesta per un atterramento ai danni di Polisena. Per il signor Lupischi di Albano Laziale non c'è nulla di scorretto. Al secondo minuto pendenza calciata al limite, blocca Gava in due tempi. Un minuto dopo Donatangelo ha l'occasione per il vantaggio. Mischia in area, il numero 8 non trova la porta. È solo il preludio al gol del vantaggio che arriva sui piedi di Braghini. Lancio dalle retrovie, Gava calcola male i tempi dell'uscita, il numero 7 lo salta e deposita in rete. La gioia ospite però dura un minuto. Corner dalla sinistra di Angelo Cernaz. Faenza in corna e ristabilisce la parità. Al ventiduesimo ancora protesta nell'area ospite per un presunto fallo di mano su un corner proveniente dalla destra. Alla mezz'ora torna in vantaggio Lavezano. Sponda di testa di Dos Santos. Braghini si inserisce, incrocia e riporta in vantaggi i suoi. Poco dopo pendenza va ad un passo dal Tris. Il numero 11 si gira bene in area, ma la palla sbatte sul palo. Dall'altra parte punizione di Angelo Cernaz. La sfera sorvola la traversa. Al trentacinquesimo la conclusione di Bisegna trova una deviazione, sfiora il palo e si riparte da corner. Il primo tempo termina così sul risultato di 1-2. Con le immagini di Maria Carannante passiamo alla ripresa. Cross di Donatelli dalla destra. Si coordina a Bisegna, ma non c'entra il bersaglio. Al decimo Tureda al limite si porta il pallone sul sinistro, ma per lui stesso destino di Bisegna. Al tredicesimo arriva il pari del Pontevomano. Ragozzo sfrutta un calcio di punizione dalla sinistra di Angelo Cernaz e batte Venditti. Reagisce Lavezano. Magava è bravo ad alzare in corner un colpo di testa di pendenza. Al diciottesimo arriva il clamoroso vantaggio del Pontevomano che ribalta la partita con Polisena che sfrutta un errore bianco-verde in fase di impostazione e batte Venditti per il gol della vittoria. Prova a rispondere Lavezano con Dosantos che sfida Ragozzo in velocità e indirizza sul primo palo. Gava si distende e respinge. Trentaduesimo minuto, Blanco scodella per Dosantos che dal centro dell'area impatta con il corpo troppo all'indietro. L'ultima occasione per la scuola di Mister Torti si presenta sui piedi di Donatangelo. Gava blocca senza problemi. Il Pontevomano ha l'occasione per chiuderla. Punizione di Angelo Cernaz. Venditti respinge sui piedi di Polisena che non riesce ad insaccarla in tapin. Finisce così. Vittoria prestigiosa per il Pontevomano che batte la capolista Vezzano 3-2. Mister Piccioni avete confermato anche oggi di essere un avversario ostico per chiunque trovando l'impresa di giornata e una vittoria probabilmente anche meritata. Affrontavamo una squadra forte, lo sapevamo, abbiamo messo tutte le nostre armi. Ho detto che nel calcio nulla è scontato. Gli ho detto di crederci dall'inizio alla fine. Ma oggi voglio fare un applauso particolare a tutte quelle persone che hanno permesso che si disputasse questa partita perché da questa mattina hanno lavorato veramente tanto per permetterci di giocare. Alla fine la vittoria le dedichiamo a loro che vengono gratuitamente, spassionatamente al campo. Davvero oggi abbiamo fatto un regalo a loro che sono stati 3-4 ore sotto il freddo per cercare di darci la possibilità di giocare. E penso che poi i complimenti vanno fatti solo ai ragazzi perché sono loro che vanno in campo. Io più di urlare e sbraitare non posso fare. Direttore Ridolfi è arrivata la seconda sconfitta esterna consecutiva contro una squadra come il Pontemovano che si è confermata molto ostica davanti al proprio pubblico. Lo sapevamo, chiaramente faccio i complimenti a loro perché non hanno mai mollato e hanno vinto la partita. Chiaramente dispiace perché abbiamo sciupato tante occasioni per chiudere la partita. Poi qualche errore di troppo sottoporta. Siamo stati un po' disattenti. Loro sono stati bravi e hanno fatto colpa.